Alcuni mi chiamano Herberia, ma è un po' pretenzioso, non crede? Può chiamarmi Jacqueline, anche di francese. Le piace? No. Lei è un uomo insolente e non si addice a un poeta. Non sono un poeta. Un poeta che ha smesso di scrivere. Che spreco! Se solo sapesse che cosa si perde. C'è un verso di Cavafis che può causare bustole purulente e febbre alta. E un breve scritto di Neruda che esplode come una centrale nucleare. Boom! La poesia può fare cose incredibili. Non sono venuto qui per giochi di prestigio. No, certo che no. Abbiamo altre faccende di cui occuparci.